e un poeta a cui abbiamo dedicato i primi tre numeri della collana arabo che dice in cui sono inseriti questi libri che vi abbiamo dato e si chiama Franco Caruso, un amico nostro poeta e psichiatra che 19 anni fa, nel 1996 a febbraio, il 19 febbraio scomparve e di cui non si è saputo nulla fino adesso ora noi comprendiamo che questa è un'esperienza al limite noi contiamo anche di andare a dedicare tarpi e concorsi a persone viventi perché non bisogna aspettare che una persona muoia per essere apprezzata, stimata pubblicamente quindi noi stiamo anche andando al di là della nostra esperienza editoriale, poetica ecc. vi ringrazio di condividere con noi questa esperienza chiamo la giuria Nino Muccio, una coppia dei libri per te per aver collaborato con noi